Illi Pastor Bonus, Suos Agnos Suas Queoves, Pasceri Presetia. Episcopus et Pastor Animarum Nostrarum, Christus, Filius Dei Vivi, qui super Petra Ecclesiam Sua medificavit, ipse Tibidon et Anulum Sigillum Petri Pescatoris. Sogeo Taiwan, Verdeus Dei Vivi, qui super Centrum de Vivi, qui super e laaceritudodos. Un summario fisi spicesivo. Section 277